Maria Cristina Minardo, Pietro Armegna, Daniela Spadaro, Modica al centro, Michelangelo Aurnia, Margherita Cascino, Cristina Cecere, Neva Guccione, prendiamoci cura di Modica, Giorgio Civello, Democrazia Cristiana, non nella formazione di una qualsiasi compagine sportiva, semplicemente il registro degli assenti ieri sera, la seduta di approvazione in consiglio comunale a Modica dei bilanci consolidati 2021-22. Una seduta decisiva che ha registrato ben otto assenze sul fronte della maggioranza, certificando una spaccatura che, seppur intuita, non era attesa almeno nelle proporzioni. Al netto di impegni personali, problematiche varie, l'assenza di tre dei quattro consiglieri di Modica al centro, con il voto contrario dell'unico presente, Fabio Borrometi, di cui parleremo tra poco, e con l'assenza pesante del presidente del consiglio comunale Minardo, con relativa seduta cruciale presudita dal vice Giovanni Alecci, Democrazia Cristiana rappresenta nel dato politico della serata quella di ieri conclusa, ma a questo punto è davvero un dettaglio con l'approvazione di entrambi gli atti. Secondo dato politico è fotografia di una serata, come direbbero i commentatori politici più esperti, di una seduta praticamente balcanizzata. L'assenza dei revasori dei conti, avvenuta secondo quanto, riporta in una nota il consigliere comunale del PD Giovanni Spadaro, causa impossibilità di conferire con loro in videoconferenza, perché l'ente non ha i mezzi tecnici per poterlo fare. Eppure da un anno, sottolinea Spadaro, si chiede di avere lo streaming e un addetto stampa in consiglia. Inoltre ricordiamo che è stato dato l'incarica ad una società per un corrispettivo di 90.000 euro che si era impegnata ad attivare lo streaming entro il passato mese di settembre. Revisori che peraltro avevano dato parere negativo al consolidato 2021 e che non si erano espressi per il 2022, limitandosi ad una relazione. Fin qui sono i primi dati politici. La cronaca vede la maggioranza presente, 12 consiglieri e non 13 perché Borrometi voterà contro, decidere dopo una prima convocazione saltata per il numero legale di andare avanti. Senza revisione e con una relazione da parte dell'assessore al bilancio che riceve gli strai dell'opposizione. Risposte lacunose e che non convincono il commento della minoranza. Da lì il voto. 12 favorevoli e 4 contrari su 16 presenti. Come detta la minoranza si è unito il voto contrario di Borrometi certificando il mancato sostegno sugli atti di modica al centro tra assenti e voti contrari. Tutto a posto? Per nulla. Vista la spaccatura evidente è probabile che la maggioranza che ha votato gli atti chiederà conto di queste defezioni e al netto, ripetiamo, di impegni personali farà sentire la propria voce. Acquendo una crisi che dalla scorsa primavera è rimasta sotto la sabbia estiva fin troppo a lungo e che nel momento delle decisioni cruciali riappare facendo scendere il sostegno dell'attuale giunta da 21 consiglieri iniziali a 12 praticamente un pareggio. E viste le nuove importanti scelte politiche e finanziarie che Palazzo San Domenico sarà chiamata ad esitare i vede in relazione della Corte dei Conti in primis non sarà una passeggiata. La vittoria di ieri della maggioranza con tutte le fatiche connesse come una vittoria di Pirro? Possibile. Si annunciano tempi duri in comune.